Ash e Creanzio, come vi è stato spiegato, il vincitore della lotta sarà premiato con il titolo di barone. D'accordo, sono allenato a lungo e duramente per questo giorno. Sarò io a vincere. Molto bene, procediamo pure. Che sia una lotta equa! Eh, certo, che sia una lotta equa. Ci siamo a fa del tuo meglio, Pikachu. Grazie! Un momento, Ash non ha usato la Pokéball. Vedi, quella era la Pokéball di Pikachu, però a lui non piace stare chiuso lì dentro, così se ne va in giro con Ash. È la nostra prima lotta al castello e voglio vincerla insieme a te. Ti presento il mio Pokémon! Vieni, Fletchling! Fletchling ma è un tipo volante. Ci siamo preparati a lungo insieme al Fletchender di Nicolas e ora riuscirà a rispondere a ogni tuo attacco. Bene, che la lotta abbia inizio! Vai, comincia con Fulmine! Usa agilità! È inutile che scappi! Energy Sfera! Ash ha cominciato alla grande. Sarà. I Pokémon di tipo volante sono deboli contro quelli di tipo elettro, ma senza una buona strategia le mosse non bastano. La forza da sola non ti porta lontano. Danza! Danza di piume! Cosa succede? Cosa succede? Abbiamo diminuito la potenza di attacco di Pikachu! E adesso all'acciaio! Dobbiamo reagire! Forza, Codacciaio! Codacciaio di Pikachu non è così potente come al solito. Danza di piume è una massa fenomenale. Pikachu, Ash, non mollate! Fletchling ha l'acciaio! Su, coraggio di prova con Codacciaio! La potenza di attacco è calata! Beh, se un colpo non è sufficiente continueremo all'infinito. Avevi ragione, è un tipo molto determinato. Vista? Non si arrende mai di fronte alle difficoltà. Questa lotta sta per terminare. Assaggia questo ora! Pikachu, formine! Non può essere! La lotta è finita! Il Pokémon vincitore è Pikachu! Ti ringrazio per questa lotta. Sapevo che ce l'avresti fatta. Pikachu! Grazie mille per l'impegno, Fletchling. Sei stato un amico generoso. Creanzio ha perso. Potrà sempre riprovarci. È vero. Dovrà allenarsi con me ancora un po'. Oggi si perde, domani si vince. E adesso ho il piacere di conferire ad Ash di Biancavilla il titolo di barone. Complimenti vivissimi! Adesso sono un barone! Pikachu! Mi spiace aver perso, ma complimenti! Hm!